La Corte di Assisi di Pisa ha condannato oggi a 16 anni di carcere Luigi Cascino, 55 anni, reo confesso per l'omicidio di Roberto Checucci, avvenuto il 27 settembre 2020 lungo l'Argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Erano vicini di casa a Fucecchio, in provincia di Firenze, e il delitto è maturato al culmine di anni di dissapori e litigi tra le due famiglie. Era o no premeditato il delitto? Questa è la domanda principale del processo. Il PM Fabio Pelosi aveva chiesto del gastolo, contestando anche l'aggravante della premeditazione, che invece non è stata riconosciuta in sentenza. A quel punto è stato applicato anche lo sconto di pena previsto per il rito abbreviato che era stato richiesto dall'imputato. Ad incastrare Cascino, individuato circa due mesi dopo l'omicidio, le telecamere di videosorveglianza urbana, le armi, un coltello e uno svita bulloni utilizzate per uccidere Checucci e il DNA, i carabinieri del nucleo investigativo pisano, avevano infatti individuato un campione repertato nel luogo dell'aggressione avvenuta durante l'abituale passeggiata a lungo fiume della vittima.